Con questa interpellanza urgente il Movimento 5 Stelle intende far luce sul crescente, nonché increscioso, fenomeno dell'intestazione fittizia dei veicoli, noto anche al grande pubblico come il fenomeno delle cosiddette autofantasma. Si tratta di una pratica che il Codice della Strada ovviamente vieta, individuando sanzioni applicabili da parte della Polizia Stradale in caso di infrazione. Ciò nonostante, secondo quanto riportato in un articolo del Corriere della Sera del 18 novembre 2019, firmato da Milena Gabanelli e Alessio Ribaudo, in Italia circolerebbero circa 97.000 auto intestate a sole 430 persone, una media di 225 veicoli a intestatario. Un fenomeno davvero preoccupante anche perché molto spesso tali proprietari risultano irreperibili o nullatenenti e possono quindi di fatto sfuggire alle responsabilità connesse all'intestazione dei veicoli. Per questo motivo tali auto vengono definite appunto fantasma e sono impiegate talvolta dalla criminalità organizzata per commettere reati, nonché da clandestini che, proprio per il ruolo status, non possono acquistare o affittare auto. Ma non pensiamo che il fenomeno riguardi solo malavitosi o stranieri che risiedono illegalmente in Italia. Anzi, in molti casi tale sistema è utilizzato da comuni cittadini per evitare di pagare parcheggi, di pagare pedaggi, di pagare multe, bollo e assicurazione. L'ANIA, l'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici, stima che in Italia circolino circa ben 2,8 milioni di veicoli senza copertura assicurativa e tra questi ci sono ovviamente anche queste auto fantasma. Dall'archivio dei dati della motorizzazione civile risulta infatti che in Italia più del 10% dei veicoli circola senza un'assicurazione valida. Un dato che è veramente preoccupante, un dato allarmante che ci deve far riflettere. Una situazione che finisce per pesare sulle spalle di chi è onesto e questo non va assolutamente bene. In caso di incidenti gravi con un veicolo senza assicurazione o qualora la persona alla guida del veicolo colpevole scappi e non sia identificabile, è il caso dei cosiddetti pirati della strada, a pagare il risarcimento è fortunatamente un fondo chiamato fondo di garanzia per le vittime della strada. Tale fondo, istituito nel 1969 e attivo dal 1971, si alimenta tramite un prelievo percentuale sui premi versati dagli automobilisti che sono assicurati, quelli onesti. Attualmente questo fondo riceve il 2,5% dell'importo dei premi assicurativi pagati alle compagnie. Le indagini per individuare gli approfittatori che delinquono sfruttando il meccanismo delle testazioni fittizie sono purtroppo abbastanza complesse. Nell'articolo citato prima si legge che la procura di Milano ha creato insieme ai carabinieri una squadra che si avvale dell'esperienza informatica dei vigili di Verona che facilita la ricerca incrociando i dati delle banche dati della motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico. Non appena si individuano le targhe dei prestanome viene chiesto al Pra di emettere un blocco anagrafico per rendere impossibile nuove compravendite. Tale sistema da febbraio 2018 a oggi ha portato al sequestro di 15.500 mezzi intestati a 112 persone. Andiamo a vedere cosa è previsto sotto il profilo legislativo. L'articolo 15,8 octies del decreto legge numero 78 del 2009 apportando modifiche all'articolo 7 della legge 9 luglio del 1990 numero 187 concernente norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico ha disposto al comma 7 bis che ove sia certi che una singola persona fisica risulti proprietaria di 10 o più veicoli gli uffici del pubblico registro automobilistico siano tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'agenzia delle entrate, alla guardia di finanza e alla regione territorialmente competente. Successivamente con la legge del 29 luglio 2010 numero 120 concernente disposizioni in materia di sicurezza stradale è stato inserito nel codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 92 l'articolo 94 bis dal titolo di vieto di intestazione fittizia che vieta immatricolazioni e iscrizioni al pra qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Inoltre al comma 2 del medesimo articolo 94 bis si dispone che salvo che il fatto costituisca reato chiunque richieda o abbia ottenuto rilascio di documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione nonché al soggetto proprietario dissimulato. Il medesimo articolo prevedeva per le disposizioni applicative della disciplina menzionata l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno. Cosa è stato fatto? A che punto siamo? A distanza di 9 anni dall'approvazione della legge citata, nonostante tale fenomeno sia in costante crescita non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. L'ACI nell'ultimo semestre ha segnalato 22.087 codici fiscali di persone da verificare che possiedono 412.500 veicoli e su ordine delle forze di polizia sono stati radiati 5.886 mezzi. Fatte tutte queste premesse chiediamo dunque se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se in questi anni gli uffici del pubblico registro automobilistico abbiano effettuato le dovute segnalazioni secondo quanto previsto dal decreto legge 78 del 2009, quali siano le cause della mancata adozione dei decreti previsti dalla normativa vigente e se non ritengo opportuno adottare le iniziative di competenza al fine di provvedere all'emanazione di questi ultimi per arginare il fenomeno delle auto fantasma descritto che costituisce indubbiamente un grave danno per la collettività. Grazie. Grazie a lei. Deputato Rizzone, il sottosegretario per le infrastrutture di trasporti Roberto Traversi ha facoltà di rispondere. A lei la parola. Grazie al collega onorevole. Grazie al collega. Tale da richiedere una verifica preventiva a rilascio dei documenti di circolazione e alla effettuazione di iscrizioni o trascrizioni nel pubblico registro automobilistico. Ciò premesso, ricordo che dal 1 gennaio 2020 la carta di circolazione costituisce il documento unico di circolazione contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1,1 del DL 98 del 2017. Il fenomeno delle intestazioni fittizie è all'attenzione del Ministero e, nell'ambito dell'implementazione delle procedure telematiche per il rilascio del predetto documento unico, è previsto lo sviluppo di un'apposita funzione per sospendere l'esito del rilascio del documento stesso, in presenza di fattispecie sintomatiche in cooperazione applicativa con il sistema informatico di ACIPRA. Il tavolo tecnico con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, istituito proprio per l'individuazione di dette fattispecie, riprenderà i lavori nel corrente mese di gennaio per la definitiva condivisione del decreto di cui al comma 4 del citato articolo 94 bis. Aggiungo che con gli stessi Ministeri sono in corso di definizione nuove modalità di comunicazione telematica, dei provvedimenti di sequestro e confisca dei veicoli da annotare nel documento unico di circolazione e proprietà. Rappresento inoltre che l'articolo 1,687 della legge 27 dicembre del 2019 numero 160 dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica della funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista, appositamente individuati dal medesimo Ministero. Tale disposizione consente la completa informatizzazione delle procedure di rilascio del documento unico, oltre ad una più facile individuazione delle fattispecie sintomatiche di intestazione fittizia di veicoli, con conseguente inibizione, in attesa dei necessari controlli di polizia, dell'immatricolazione di ulteriori veicoli a nome di determinati soggetti. Da ultimo evidenzio che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato che la Guardia di Finanza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7,7 bis della legge 187 del 90, riceve dall'ACIPRA con cadenza semestrale e mediante un applicativo informatico la comunicazione dei dati relativi ai soggetti che risultano essere intestatari o ultimi intestatari in caso di presenza di dichiarazione di perdita di possesso di almeno 10 veicoli, nonché di ulteriori informazioni di dettaglio. I predetti dati sono oggetto di approfondimento a livello centrale da parte del nucleo speciale Entrate della Guardia di Finanza e valorizzati con ulteriori elementi conoscitivi disponibili relativi ai soggetti segnalati, per individuare fattori di rischio indicativi della Commissione di illeciti economico-finanziari e per effettuare relativi interventi mirati. Grazie. Grazie a lei, Sottosegretario Traversi. Il deputato Marco Rizzone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. A lei la parola. Ringrazio il Sottosegretario e per suo tramite il Ministro per la risposta della quale ci riteniamo soddisfatti. La grave situazione da noi descritta in questa interpellanza urgente, come già detto prima, è stata messa in luce sul Corriere della Sera dai giornalisti Milena Gabanelli e Alessio Ribaudo, che colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente. Quando giornalisti e politici giocano di sponda, facendo entrambi bene il proprio lavoro, tutti ne beneficiano. Siamo altresì soddisfatti nell'apprendere che i vari Ministeri dei Trasporti, della Giustizia e degli Interni stiano lavorando ad un tavolo tecnico con la finalità di individuare a livello operativo soluzioni concrete al problema, così come pure del fatto che ci sia un'attenzione vigile da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e da parte del nucleo speciale Entrate della Guardia di Finanza per monitorare i soggetti segnalati possessori di più veicoli, al fine di ridurre drasticamente il fenomeno che abbiamo segnalato e denunciato in questa interpellanza. Ci auguriamo inoltre che il documento unico di circolazione, entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno e della cui efficacia siamo ottimisti, possa costituire un ulteriore strumento utile per effettuare controlli più rapidi e approfonditi. Concludo con una riflessione. I malviventi che organizzano queste truffe tramite le autofantasma utilizzano come prestanome per lo più pensionati, ottantenni, pregiudicati, detenuti, ma anche disoccupati cronici, persone insospettabili in condizioni di povertà che magari per 30 euro si offrono in rete di fare i prestanomi. Pensiamo a queste categorie deboli che per arrivare a fine mese diventano facili prede e che finiscono per delinquere. Politiche volte a ridurre la povertà come il reddito di cittadinanza, che come Movimento 5 Stelle, come sapete abbiamo fortemente caldeggiato e introdotto, possono contribuire in maniera concreta ad arginare il fenomeno. Ricordiamocelo. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2605 dei deputati Frassinetti e altri concernente iniziative di competenza volte a contrastare azioni violente.